Nicola Baiocchi, consigliere regionale, reduce da un consiglio regionale importante perché si è cercato di dare una risposta concreta per quello che è nelle disponibilità dei poteri della regione a questa emergenza sanitaria. Sì, è stata delle comunicazioni fatte dall'assessore Filippo Sattamartini che hanno lasciato tutti contenti e fiduciosi su quello che si può fare. Adesso bisogna necessariamente intervenire, la regione lo sta facendo, non è il momento delle polemiche e delle responsabilità perché sappiamo che questo è un problema ormai cronico, un problema nazionale che stiamo cercando di affrontare nel più breve tempo possibile. Purtroppo molti concorsi vanno deserti, la regione sta cercando di reperire medici per porre un freno a questa grossa problematica del portosoccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro di Marche Nord in generale, ma in generale dei vari portosoccorsi della regione. Quindi otto medici presi da un concorso ASUR che è in atto sostanzialmente e altri cinque derivanti dall'area chirurgica. Quindi si cerca in tutti i modi di mettere questi medici, questi nostri ormai eroi, perché sono due anni che ormai sopportano un carico di lavoro ormai elevatissimo, a cercare di metterli veramente nella condizione di poter lavorare al meglio. Questa è una boccata ad ossigeno che però non risolve un problema che va oltre le competenze regionali, si parla comunque di una programmazione nazionale carente da questo punto di vista. Assolutamente sì, non deve essere un alibi, ma la regione Marche farà tutto quello che è nelle sue possibilità, nei suoi poteri per indire concorsi e cercare di trovare del personale utile a questa causa. Il personale di Marche Nord, basta ricordare che prima del 2020 erano 38 unità e adesso sono arrivati 27, tra pensionamenti e altre fuoriuscite. Quindi bisogna assolutamente fare in modo che questo personale sia stimolato a venire all'interno del nostro ospedale e a lavorare nell'interesse dei nostri pazienti e all'interno territorio provinciale. Grazie a tutti.